Diciamo che dopo ultimi mesi che insomma non sto tanto bene ovviamente la decisione è venuta anche abbastanza facile quando vivi fuori dalla palacanestro e senti dolore insomma non è proprio la cosa più bella e l'ho presa molto serenamente insieme alla decisione insieme allo staff medico perché comunque ho chiesto anche a loro i loro pareri è venuta facile appunto e niente non è non mi tiro sicuramente indietro non l'ho mai fatto quando ci sarà bisogno io ci sarò ovviamente combatterò fino alla fine questo è un po' come assicuro mi alleno tutti i giorni cerco sempre di dare il massimo e giustamente cerco di aiutare la squadra nel miglior modo possibile ma ho 37 anni quasi 38 e lo sapevo volevo giocare ancora un anno quello questo si mi sarebbe piaciuto giocare ancora un anno ma sarebbe troppo deleterio per il mio il mio futuro da persona normale diciamo per questo è giusto così veramente sono molto molto sereno è così insomma 30 38 anni fatto per vent'anni quello che volevo fare mi reputo molto fortunato perché poche persone secondo me riescono a fare quello che veramente vogliono fare nella loro vita per un così tanto per un periodo così lungo grazie a tutti